Domenica 8 aprile al complesso Palapartenope si terrà la decima edizione del SEBS, la fiera dello sport dedicata al mondo del fitness, della danza, della salute e del benessere. Su una superficie espositiva di oltre 20.000 metri quadrati saranno attrezzate dieci aree in cui si terranno lezioni, dimostrazioni, workshop, laboratori e competizioni dedicate ad appassionati e professionisti di numerose attività sportive. Abbiamo il settore danza, il settore fitness e il settore sportivo. Il settore danza accompagnerà tutta la giornata degli stage, delle masterclass di presenter ed eccezione, televisivi e in più in serata abbiamo il concorso danza. Invece poi per quanto riguarda il settore fitness abbiamo 12 palchi dove si alterneranno diverse discipline dalle discipline super nuove del momento nel settore fitness, abbiamo discipline che arrivano dall'estero ormai viste qui in campagna e in più avremo anche una gara dedicata al mondo del bodybuilding. Per la prima volta la FIBA presenterà la sua gara qui al SEBS. Poi abbiamo invece il concorso latino dedicato alle danze latine che nella mattina si verteranno degli stage e nel pomeriggio invece avremo questo concorso. Diciamo che la manifestazione è stata studiata per tutta la famiglia. Stand ospiteranno incontri sulla prevenzione, l'alimentazione e la medicina dello sport. c'è inoltre la possibilità di effettuare esami, consulenze e visite in diverse discipline specialistiche. Si sceglie ancora una volta Napoli per organizzare una manifestazione così bella di apertura alla città, in un luogo importante che è una struttura di grande importanza. È la decima edizione quindi siamo di fronte a un evento che apre le porte, apre il mondo del fitness e il mondo dello sport ai cittadini napoletani. Questo è insomma una delle attività che noi promuoviamo con grande attenzione e con grande interesse.